Così è perfetto! Questa è la motivazione di cui avevo bisogno! Proprio questa! Grazie! Grazie! W-K-B-W vuol dire... Waffanculo a brutti wacconi! Questa è la vostra sigla! Ci rivedremo su Channel 5! Dove ci sono i notizieri veri! Capito! Guarda che c'è il caccia a mano! Guarda che c'è il caccia a mano con questi cartelli! Andiamo ragazzi, forza! Che fate laggiù? Andiamo, su! Bravi! Lasciate in pace quel poveretto! Come va? Stai bene? Sì, è meglio che girate a largo! Cosa? Che cosa hai detto? Scappiamo, forza! Scappiamo! Stiamo scherzando! Ehi, ti si è scordato le tue cose! Hai capito, eh? E ora che dici? Prova a parlare adesso! Prova a parlare! Prozzo! Bellissimo! Ecco cosa tengo! Ecco cosa tengo per aver aiutato un poveretto! Non mi guardare, Walter! È così che vengo ripagato, così è la mia ricompensa, già! La vita è giusta? Ma giusta di la vista! Grazie a Dio stai bene! Dio, già, ringraziamo Dio, come no? Poiché le sue benedizioni cadono a pioggia su di me! Non è pioggia, è un diluvio! Bruce, non fare così, amore, smettila! Lo sai che tutte le cose succedono per un motivo! Questo non mi serve! È un luogo comune, non mi aiuta neanche un po'! Meglio un uovo oggi che una gallina domani! Ma io non ho l'uovo e nemmeno la gallina! Dio mi ha preso sia l'uovo che la gallina! Ah, ho capito! Allora, Dio ce l'ha con te, è questo che stai dicendo? No, mi sta ignorando completamente! È troppo occupato da Revan tutto quello che vuole! Oh, geniale, Sam! Ma è mancato il bersaglio, io sono qui! Non ti arrabbiare col cane, non è colpa del cane! No, è colpa di Dio! Ha sbagliato le coordinate! Senti, ora basta, va bene? La vuoi smettere di fare il martire! Non sto facendo il martire! Sono una vittima! Dio, un bambino dispettoso seduto su un formicaio con una lente, io sono la formica! Potrebbe risolvermi la vita in cinque minuti se volesse, ma preferisce bruciarmi le antenne e vedermi contorcere! Amore, so che sei arrabbiato, è assolutamente comprensibile! Evan ha fatto una cosa sbagliata, da viscidone! Ma oggi poteva andarti molto peggio! Mi basta che tu stia bene! Oh, che io stia bene? Ultimora! Io non sto bene! Non sto bene con un lavoro mediocre! Non sto bene con un appartamento mediocre! Non sto bene con una vita mediocre! È così che consideri quello che abbiamo? Una vita mediocre! Non ci provare, non sto parlando di te! Parlando di me? Come potrei pensare che parli di me? Si parla di te! Si parla sempre solo di te! Perfetto! Perfetto! Aggiungiamo al giorno peggiore della mia vita un bel contorno di senso di colpa! Grazie! E va bene, Dio! Vuoi che parli con te? Allora rispondimi! Dimmi che cosa succede! Che cosa devo fare! Dammi un segno! Pericolo più avanti! Oh, io ho bisogno della tua guida, signore! Ti supplico, mandami un segnale! Ma che fa questo deficiente adesso? Ok, d'accordo! Ora prova a modo tuo! Allora, signore! Signore, ho bisogno di un miracolo! Sono disperato! Ho bisogno del tuo aiuto, signore! Ti prego! Entra nella mia vita! No! Oh! Ma che diavolo! Oh, ma dove è finito? Preso! Ah! 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 Oh, oh, oh. Hey! Va bene, a mani nuda, vecchio mio Fatti subito, fammi vedere la tua ira Punisciami, opposente punitore Sei tu che dovresti essere licenziato L'unico da queste parti che non fa il suo dovere Sei tu Rispondimi Hai risposto